plugin avanzato anzi plugin di editor avanzato abbiamo visto questo editor che ci dà giusto gli strumenti di base però come faccio io a cambiare la dimensione del font senza dover utilizzare che è l'errore più comune vi assicuro che si fa è cambio la dimensione del testo ma io cambio mettendo titolo 2 titolo 3 in base alla dimensione che voglio questo è un errore è da errore grave errore blu in grammatica ok perché gli h23 eccetera quindi heading titoli 2 3 4 si devono utilizzare per dare una struttura piramidale al nostro testo ok quindi se il nostro titolo di un articolo rappresenta essere il titolo di un capitolo che è in contenuto all'interno di un libro che è il nostro sito web all'interno del capitolo ci saranno i paragrafi i sottoparagrafi i sottoparagrafi e quindi gli h2 gli h3 che parlano di un sotto argomento dell'h2 e non bisogna utilizzarli per dimensionare il font però dico che come faccio a farlo se non ce l'ho disponibile all'interno dell'editor quindi già questo mi giustifica l'installazione di questo plugin che adesso vi dico advanced editor tools torniamo su plugin aggiungi nuovo scriviamo advanced editor tools anche tool va bene e vedete già anche quanti è l'ex tnmc advanced qualcuno forse se lo ricorderà con questo nome 2 milioni di installazioni attive 4 e mezzo di rating 326 recensioni è vero che l'ultimo aggiornamento un anno fa speriamo che lo aggiornino ma che è l'autore è lo stesso autore di chi manutiene wordpress perché automatic è il creatore è il manutentore si dice di wordpress ok quindi io clicco qui su installa attiva e quindi mi ritrovo poi su impostazioni da cliccare vedete che anche akismet è di automatic clicco su impostazioni e mi dice ok io cosa cioè cosa vuoi personalizzare l'editor a blocchi o l'editor classico ovviamente l'editor classico io posso anche personalizzare chiude in barco con questo è giusto per la cronaca editor classico io dico ok abilita il menu dell'editor questo è un'anteprima di quello che già io vedrò attivando l'articolo attivando cioè il back end dell'articolo dimensione tipo di carattere e così via posso scegliere di attivare vedete altri strumenti emoticon inserisce edit video così via e in più ci sono altre opzioni cosa che vi consiglio assolutamente è quello di attivare dimensione carattere dandovi l'opportunità anche di scegliere da un minimo di 8 pixel fino a 96 pixel senza dare il tag heading ma tenendo il tag paragrafo cioè p ok questo perché perché magari noi vogliamo dare solo una evidenza grafica a un particolare passaggio di testo o combinazioni in termini e non anche dare un'accezione lato seo volato